Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo a raggiungere i 10.000 punti in ranked. Al momento siamo, non siamo in top mondiale, ma siamo 111 in Italia. Se volete il video in cui raggiungiamo gli 11.000 punti, facciamo arrivare a questo video a 40 mi piace. È tanto, ma io ci credo. E ora andiamo direttamente con le partite. Però non è la prima volta che vedo sto comp. Comunque primo game, questo era comp e siamo col Mario, che è qua sempre ad aiutarci. Faccio finta di sperare di fare. Oh, chi è inizibile? Eh, 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 eh. What? Mi fa troppo danno, dai. Ho il surge davanti allo schermo, non vedo nulla. Cioè, il surge, sì, il surge davanti al... Cì, cì, ci penso io questo. Non morire, Toretto. Ok. Non so se è la ultima. Aspetta, vai, Manu. Possiamo. Ok, easy dodge. Vi ho fatto anche un po' di ulti. Eh, ah, beh, sì, perché giustamente ti faccio danno. Oh, shit. One shot. No, no, mi è stato il surge. Non ci credo. No, vinti di vita. Ho chiò che sorge l'ulti? La mia sono il più molesto. Corro, corro. Io ho l'hyper, però non lo sto usando. Occhio, kit. Bella la ulti della nostra Charlie. No, non hitarlo, Manu, se è il gadget attivo. Stiamo vincendo, eh? Ok, bravo. GG. Primo game. Manu, lo trolla. Primo game andato contro il kit. Meglio aggrapparci. Cioè, ok, all'inizio potrebbe anche jumparci, ma dopo dovrebbe attaccarci ai suoi. Stimente non si è mai attaccato. Ai suoi compagni. Eccolo. No. Ma perché eri sempre stunnato? No, c'è arrivato. Pensavo che spawnassi in tempo. Guarda. Ok, lui ha fatto un bel lyper. Bella l'ulti del kit. Bella per noi, intendo. Bella, bella. Lì ha anche fatto spiegare il gadget. Occhio al surge. E kit è un problema. Dio, vado via. La sposto da qua. No, dai. Vai la mano. Vai la giocata. E forse ho ulti hyper. No, forse solo ulti hyper. No, ulti hyper. Ok, c'è il kit. Ho un'altra ulti. Gigi. Primo game andato. Penso sia un più 25 perché c'era il kit alle giri. Come sempre. Chiaro. Più 30. Col prossimo game. Vediamo se sono entrati in top 2000. Ma non sono in top 2000. Molto bene. Secondo game sarà particolare perché il nostro spy che andrà a regalare kill su kill. Vediamo un po' cosa succede. Magari no, non è possibile. Ok, io ti do. Ok. Ok. Io avanzo un attimo. Lui non deve morire però. C'è buono. Devo rimediare il suo errore. Che cazzo spacca? Coglione. Che sono tutti chiusi però. Ok, allora non sono tutti chiusi. Non regaliamo, non regaliamo. Che è morto l'angelo? Ah, non so se stiamo carriando. Eh, non mi morivo. C'è un... Riempidi questo coso di robette. Di... Metto su, la metto su. Ok, Leon. Quello, 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 quello. Un attimo che sono one. Teniamo il bush, teniamo il bush. No. Chill, chill. Chill, una kill. Ho ancora un gadget, ti ho. Usa l'hyper. Buono, buono. Uddio. E... Basta che stiamo attenti noi, Manu. Non dobbiamo trollare. Visito oggi all'inizio della piper. Che cazzo vuole fare? Ok, è morta la piper. Buono. Bravo, Manu. Teniamo, teniamo. Ok, buono. È avvelenata la piper, forse la muore. Cristo. Nice, nice, nice. Stiamo vincendo, stiamo vincendo. Ho fatto una doppia... E poi mi sono suicidato. Cosa fa lo spike? Chill, 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 Manu. Vai, vai, chill. Che è morta? No, ho 43 di vita. Ok, Dio santo. Close è, sto game. Buono. Vediamo. Più 25. Ho fatto 25 io, quindi. Anch'io, anch'io. Quasi per la oro 2, comunque. 9899. Top 1900. E via, dai, continuiamo, continuiamo. Stora, povero mi lascio lo scudo, però. Sincero, andoro la comp. Però, boh. Sì, però... Siccome si può fare qualcosa. Andiamo tutti nella stessa lane. Cerri qua. Che becil, ma lui ha... Quel brawler, quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli. Ok, si è un po' suicidato questo. Sai che mi ha fatto così tanto danno? Bravo, Manu, bravissimo. Eh, però mi sa che lui muore. E invece? Il crascio della Mandy. Ok, chill. Lo uccide, lo uccide. No. No, ha sbagliato la multi. Fatta male. Non è la giusta come la multi. Evi, da su, da su. Eh, io provo ad aiutarlo. Lui. Ok. Ma come fa ad aver già finita la casetta? Che bello. Nice. Madonna, il muro perfetto. Non puoi avere il muro, eh? Aspetta. Sì, sì, sì. Cicci. Ok, buono. Primo round. Andato così, così. All'inizio non ho capito il genio come ha fatto a farmi così tanto danno. Perché aveva l'altro gadget. Non so se c'è anche Rico. Eh, no, Rico è qua a destra. No, Rico. Genio è one. Genio è morto. Ok, chill. Eh, chill. Io direi di tenere... Dov'è il Mr. P? Ok, è andato a destra. A destra? Ah, la torretta. Ok, l'ha messa a malino. Ok, one. Buono. Vado a tirar giù la torretta. Buono, buono. Oh, l'hyper. Buono, buono. Chill, chill. Ok. C'è Rico, orca puttana. Ok. Io sto hittando duro qua. Ho paura che mi arriva il Mr. P, mi inizia a bombardare, mi chiudono. Eh, sì. Infatti. Ah, peccato. Peccato. Eh, ma non provo ad andare a te a destra. Metti il muro se no, metti il muro, metti il muro qua. Eh, sì, sì, esatto, esatto. No, qua. No, no, Cicci, adesso chiudiamo Rico. Ah, no, tutti a destra, tutti a destra, tutti a destra. Genial ulti. Lui era one shot. Genial ulti, eh. Genial... Ok. Li ha presi tutti. Li ha presi tutti, li ha presi tutti. Nice. Nice, Cici. Let's go. Grande la nostra Mandy. Poglia. È bellissimo. Ho visto un... Uuuuuhh. Trenino Thomas, Dio Volo. Sì, like... Oh, più 35, Manu. 9.934. Vediamo. Vediamo. 1.813. E allora... Se lui guarda la stu. Buona, però... Dai, non dovrebbe essere malissimo. Cioè, lui non è la Demi. C'è un bene. Lo stu, come tiriamo giù lo stu? No. 500 dividita. Fai stu. Fai la torretta. Grande, maz. Bravo. Tio buono, ma non sto buzz non ha... Sincero siamo meglio. Però... Ma no, ma guarda che il buzz non ha preso... Una ulti. Eh, lo so. E' quello. Vedete, mi metti i tryhardare. Che cosa fa? Ma perché continuo a mirare la ulti? Non c'è più. Non c'è più. porca miseria gg il buzz continua a prendere in perterrito i muri c'è jesse dentro i nostri bush prova a mettere una ultima un po più aggressiva no ulti hai per jesse è buono che l'ha usata rava benissimo cambiala subito eh appena ce l'hai ti direi cambiala cambiala c'è charlie in base nostra madonna santa c'è bravo spreca un'altra ultima ok non le possono cambiare dio bono let's go visto cosa abbiamo vinto la webcam che l'ho dovuta spegnere per tryhardare sto bot dio bono 17 lui 6 8 gg più 68 10.000 punti manu come 10.000 punti eh si ma cosa quanto hai fatto più 68 10.000 e 2 porca miseria questo game di merda 1600 al mondo buzz orribile cos'era sta terrificante il buzz peggiore che abbia mai visto in tutta la storia ragazzi vi ringrazio di aver visto il video se volete il video in cui proviamo a raggiungere manu secondo te gli 11.000 punti sono fattibili ma invece noi li facciamo ma ci si prova perché se facciamo arrivare questo video a 40 in piace lo facciamo manu 40 sono tantini ma ci arriviamo e noi ci vediamo al prossimo video bella fioi